buongiorno bella gente benvenuti nel mio canale oggi vi porto al di là delle maschere per i capelli per il viso questa volta qua purifichiamo la nostra energia togliamo via l'energia negativa che accumuliamo dal lavoro dalla famiglia degli amici delle persone che conosciamo in giro che ci assorbano l'energia positiva e ci caricano di questa energia negativa che possiamo chiamarla la sfiga possiamo chiamarla un periodo negativo o che state male che sentite questa pesantezza della vita questa tecnica qua mi l'ha insegnata un'amica la sto usando da circa un mesetto e mezzo e mi trovo da dio fida per me veramente funziona basta credere allora dovete prendere dei fiori bianchi io c'ho qualsiasi tipo di fiore io c'ho vicino a casa una pianta con questi fiori bianchi infatti la sto spellando questa tecnica la sto utilizzando una volta alla settimana e mi trovo davvero bene prendete questo fiori bianchi togliete tutti i petali e lo lasciate in questa acqua l'acqua tiepida fredda io l'ho lasciata fredda perché tanto fa caldo e poi ho aggiunto qualche go una una foglia di alloro lei non mi ha detto di questa foglia qua ma io so che l'alloro toglie toglie via tantissima energia negativa infatti gli indiani lo bruciano in casa per fare la pratica come la yoga la meditazione aggiungo in questa foglia e comunque voglio dirvi che questa tecnica veramente veramente con me personalmente funziona da dio infatti come vi ho detto la sto utilizzando da un mesetto e mezzo allora aggiungo un rametto di mezzo rametto di cannella se non avete il rametto di cannella o il chiodo di cannella e aggiungete anche la cannella in polvere però sono passaggi importanti cannella importante il fiore bianchi importante e poi aggiungete il vostro profumo abituale il profumo che usate di solito qualsiasi tipo di marca importante il profumo che usate fatti qualche spruzzo e girate il tutto e lasciatelo riposare per dieci minuti quarto ora mezz'ora importate che non lasciate riposare passaggio importante è quello quando andate a farvi la doccia dopo che avete lavato i capelli dopo avete la passata tutta la spuma la spugna questo qua deve essere l'ultimo passaggio prendete questa acqua e la versate dalla testa preferibilmente dai capelli dalla testa fino giù ma quando le avversate dovete pensare e desiderare quello che volete amore dinaro energia io voglio solamente la pace e dopo di che assolutamente quando uscite dalla doccia non dovete asciugarvi lasciate che l'acqua assorbe la vostra pelle provatela e fatemi sapere bella gente se vi piace lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanina alla prossima ciao a tutti